Papa Francesco ha ricevuto in udienza nell'aula a Paolo VI il principe di Galles Carlo e la duchessa di Cornovaglia Camilla. È stata la quarta visita del principe, re del trono d'Inghilterra alla Santa Sede, ma il primo incontro con Papa Francesco. Nel colloquio con lo pontefice, rende noto l'ambasciata britannica presso la Santa Sede, si è discusso di numerosi argomenti di interesse comune, tra i quali il tema dell'ambiente. Il Papa ha regalato al principe Carlo un bronzo che rappresenta un ramo di olivo. Il principe ha contraccambiato con un cesto di prodotti della tenuta privata di Igrove da condividere con i poveri e senza fissa dimora. Carlo e Camilla hanno poi visitato l'archivio segreto Vaticano e la biblioteca Vaticana e incontrato i membri della comunità britannica che lavorano presso la Santa Sede.